Raccolgo l'esasperazione degli abitanti di Via Dante 400 a Taranto. Parliamo di tutta questa schiera di palazzine che sono all'interno della entrata del civico 400 di Via Dante. Quindi parliamo di area comunale in cui l'Amiu, Chima Ambiente Amiu, non esiste. Non esiste, non passa mai e hanno lasciato gli abitanti di questa zona che pagano la Tari nel porcile. Guardate perché le mie parole possono essere secondarie, anzi sono secondarie rispetto alle immagini. Alla realtà dei fatti qui abbiamo della sporcizia che si è incancrenita, imputridita, stratificata, vedete, da mesi, 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 mesi e mesi. Ma scusate, ma quest'area mi domando, visto che fa parte del comune di Taranto, quali colpe hanno da espiare gli abitanti di questa zona? Quali colpe? Perché a questi cittadini, lo ripeto, si chiede regolarmente di pagare la Tari. In cambio di che cosa? Della mondezza, dell'immondizia, della schifezza che sta a terra? Parliamo di area comunale, area aperta al pubblico, al transito pubblico. Vi ho parlato della sporcizia diffusa lì, ma potremmo anche andare all'infinito, girare per tutta questa schiera di palazzini e trovare proprio rifiuti che si sono stratificati, perché non passa mai. Il servizio di nettezza urbana qui è inesistente, è inesistente. È più facile che ti appaia la Madonna, piuttosto che ti appaia un operatore di Chima Ambiente Amiu. E guardate qui, poi per non parlare delle condizioni del manto stradale, sprofondamenti, rappezzi. Qui è un'area di transito pubblico, quindi qualunque cittadino transita e si imbatte in queste realtà. Cioè come potremmo andare avanti? Vedete, altra situazione, se facciamo una bella zoomata, anche lì in fondo noi abbiamo lo sprofondamento, buche e quant'altro relativamente al manto stradale. Ma la cosa che più mi ha impressionato è il fatto che questa zona è stata proprio abbandonata, cioè è stato negato il diritto di cittadinanza a chi è qui regolarmente cittadino. E si nega il diritto di cittadinanza nel momento in cui di fatto si negano i servizi. I servizi essenziali. La pulizia è un servizio essenziale. Presidente Mancarelli, dattina regolata. Al sindaco non lo dico più perché ormai dorme dalla mattina la sir. Politicamente è morto politicamente. Il nuovo scienziato, uomo di scienza, che è arrivato come assessore alle società partecipate, Mazzariello. Mazzariello! L'AMIU, Chima Ambiente AMIU è una società partecipata. I cittadini qui vogliono risposte. I cittadini pagano le tasse. Per avere che cosa? Per vedersi ricoperti dall'immondizia? Cioè io non lo so. Io non lo so se questi sono cittadini di Taron. E lo sono. Perché devono essere, non so, emarginati, umiliati? Sì, perché si tratta di una umiliazione vera e propria. Cioè, e oltre che poi sussistono in generale delle ragioni di sicurezza sanitaria. Perché non è di igiene, di norme igienico-sanitarie. Perché non è normale che un'area non debba essere pulita e debba rimanere per l'eternità sommersa dai rifiuti. Questa, signori cari, guardiamo, facciamola rivedere. Facciamola rivedere con una bella videata, una bella panoramica. Ma potremmo andare anche oltre negli altri cortili per farvi vedere la realtà. E il, mi dicevano, ma potremmo continuare all'infinito anche qui, perché ovviamente ci si dipana tra vari vicoli. E la sporcizia è inaudita. Inaudita. E per completare, guardate le condizioni dell'asfalto. Guardate, sono stati addirittura i singoli cittadini, abitanti, che hanno dovuto rappezzare per cercare di mettere un po' di cemento. Qualcosa di assurdo. I tubi che fuoriescono. E insomma, insomma, una situazione mai vista. È tutto rotto. Hanno provveduto, ecco, guardate qui, guardate. Hanno tombini spostati, guardate. Hanno dovuto provvedere i cittadini, ma alla meno peggio. Un porcile, un porcile, un porcile, non ci sono parole. Trattati gli abitanti come se questa fosse una terra di nessuno. Io, da consigliere comunale, pretendo che gli abitanti di via Dante 400 abbiano il riconoscimento del loro diritto ad una vita normale, in condizioni normali, di condizioni igienico-sanitarie, che l'amministrazione ha il dovere di garantire. Punto e basta. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS